All'entro, c'è una di gente! Quindi che si deve prendere? Questo! No, ma che cacchio di roccolo? What? Che? È un cacchio di juggernaut! Eh! Juggernaut? Un juggernaut! Oddio! Ahia! Ahia! Fanno male! A dove cacchio devo andare? Ma che cacchio guida con sta armatura di 200 megadoni a dolce! Ammazza qualcuno! Dimmi a dove devo andare, ho controllo sulla mappa! E' controllo sulla mappa! Dobbiamo andare in camion, ecco! Che stanno? Qua davanti! Bene! Ti vado a prendere, eccoli, eccoli, eccoli! Lo prendo e... Ti scorto! Vieni, sali! Fermo! Vai! Aspetta, se ho buttato l'eicottero! Maggia! Poi abbiamo andato il cargo, Bob! No, no, non penso che funzionavano, se la sali su questo! Oh, ho acceso il piloto! Mi sa che è quello di prima! Oddio! Oddio! Mi sento! Non penso che siamo passi qua! Sono pure i ricotteri, ma vabbè, sì! Le ricotteri, sì, sì, sì! Le ricotteri, sì, sì! Le ricotteri, sì, 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 sì! Non so chi... So caduto! Ecco, è sempre... Manaccio il demonio! Manaccio il demonio! Mannaccio! ok dai sali 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 no che poi ci distruggono metti di più al centro al seno uccidere un uccidio ho un giocatore guarda so stronzo aspetta di famiglia piatta si è morto casino vai stanno muori tutti no e vabbè non ti schianta perché schianti cato è normale quanta vita pure io altri elicotteri tu guida senza guidare non ci schianta meno vado se purtroppo la polizia che cavolo era io sono troppo fuori ma sto un po' troppo fuori ma adesso al centro io ti vedo fuori basta che non cagli basta che non ti schianti arriva un tizio con la con l'oppressor ammazza non lo becco non lo becco tu guida l'ho ucciso oh gesù morri morri dai che quello torna accelera che ti è pagato per avermi sottolato no niente l'ho beccato lui direttamente ok ok morite è difficile dirmi di non schiantarmi eh si oh cacchio forse mai mi metto un po' vai piano 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 vai accelera aspetta che stanno in altri ericotteri oh che bella questa missione oggi ericoteri si stava pescando addosso guarda quanto sangue ho ma che c'è l'emistruzione oh questa qua te la te la completiamo è degna eh degna sarebbe degna sarebbe che mi ha dato un milione ebbè ma quello che succede io come intanto a te pagano io a me che soppi è vero no no guida 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 tu guida non ti ho persa niente guida sei si ci stavo non ti mi sono un botto come hai fatto non c'è non lo so dai oh un 5000 me lo dà per sta vecchione non credo oh sei 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 molto ormai sei molto positivo oddio sta portamento guarda quanto sangue ci sta qua sopra abbiamo squalito una macca sei in salvo non è sotto l'inserimento tutte le unità sono state chiamate alla base perfetto ma sono arrivati oddio ma 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 ok eh ho visto l'ultimo camicino che desponava e ci cadevo sotto e poi mi sono messo a correre dentro il bunker a me aveva dato 300 dollari ho appena pagato 500 strade 5 e donna di chiudente giornaliere 300 per l'assistente 900 per il my club bello bello quindi i soldi uuuuuh no ma non ci combina veramente grazie